Bruno! 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 Arriva l'acclamazione all'unanimità da parte degli iscritti sul Monesi del PD verso la candidatura a sindaco di Bruno Di Masci. L'assemblea di oggi nella sede di Corso Video si espressa favorevolmente per l'unica proposta in grado di rappresentare il partito e quanto hanno sostenuto sia la senatrice Stefania Pezzopane che il segretario provinciale Mario Mazzetti. I vertici regionali e provinciali, tramontata qualsiasi altra ipotesi che inutilmente stava cercando di portare avanti il segretario regionale Marco Rapino, non hanno potuto far altro che avallare la tesi di Bruno Di Masci che si porta dietro la maggioranza degli iscritti che al termine dell'assemblea hanno acclamato il suo nome a gran voce. Soddisfatto perché c'è stata l'unanimità intorno a questa designazione al candidato sindaco. Nello stesso tempo preoccupazione per la responsabilità che mi hanno dato anche perché sono assolutamente consapevole delle difficoltà alle quali io vado incontro perché è chiaro che la situazione è drammatica. Su quello che è successo prima mettiamoci una pietra sopra. Questo è il senso dell'intervento del segretario provinciale Mazzetti che ha parlato di passo indietro nell'interesse del partito. Non è il momento adesso di fare le analisi, ha detto, perché ora dobbiamo pensare ad affrontare la campagna elettorale. È ufficiale intanto che il PD si presenterà con Di Masci senza simbolo. Nulla importa, ha detto la senatrice Pezzopane, perché Bruno è comunque un uomo del Partito Democratico. Non si può fare a meno a questo punto di prenderne atto del lavoro che ha fatto in queste difficili settimane e di dare una mano a Sulmona per avere un vero sindaco e non un sindaco fantoccio, etero diretto da qualcun altro. Ecco quindi che l'Assemblea degli Iscritti ha dato un'indicazione precisa, inequivocabile. Segretario, sembra che i problemi siano risolti. Il PD ha trovato l'unità su un uomo solo, però correrete senza simbolo. Gli iscritti del PD oggi nell'Assemblea hanno riconosciuto nella proposta di Bruno Di Masci il valore della loro storia e del loro percorso. Il Partito Democratico, come sapete tutti, ha stabilito di non esserci in questa campagna elettorale per non esacerbare anche i conflitti di una comunità politica che ha bisogno anche tanta di ricostruzione. Il candidato Bruno Di Masci oggi si è presentato alla platea degli iscritti, ha avuto il proprio consenso, si presenterà con una proposta civica. E' intervenuto anche il dirigente scolastico Massimo Di Paolo, che ha confessato, dopo l'esperienza negativa alle regionali, di aver rimesso piede nella sede del PD solo ora per Bruno Di Masci. E' partita la costruzione del programma di mandato per arrivare ad un governo cittadino stabilendo un patto civico con gli elettori. Noi vinceremo, perché abbiamo idea, perché abbiamo forza e perché ci state voi. Grazie. Grazie. Grazie.